Benissimo, grazie e buongiorno a questa presentazione, non so se mi fa onore o aumenta il carico di responsabilità, penso proprio la seconda. Abbiamo deciso di parlare in italiano, la cosa che cercherò di fare è di parlare, abbiamo fatto diversi incontri, uno poco tempo fa, da quattro anni del sisma, durante i quali abbiamo già più volte parlato di quello che è successo, dalla liquefazione, degli interventi che sono stati messi in atto, quindi cercherò in maniera un po' molto sintetica di passare velocemente tutte queste considerazioni per arrivare a qualcosa di un pochino più tecnico e cioè alla verifica vera e propria della liquefazione e spero di portare un contributo a tutti i colleghi, tutti i professionisti che sono in sala per le verifiche vere e proprie, un contributo diciamo che potrebbe essere innovativo. Allora molto brevemente noi abbiamo avuto una sequenza di effetti di shock per circa due mesi, più di duemila in particolare, otto di questi hanno avuto una magnitudo maggiore di cinque, quindi stiamo parlando comunque di eventi confrontati con quelli che abbiamo appena visto di Christchurch sono decisamente molto più contenuti, anche gli effetti, però vedremo alcune cose che sono decisamente simili a quelle che abbiamo visto a Christchurch. Allora i due eventi più importanti sono quelli che ho indicato qui e cioè quelli del 20 maggio di magnitudo 5.8, è una profondità di 9.5 chilometri, il 29 c'è stato un altro evento molto importante 5.6 di magnitudo profondità 8.1 e questi sono indicati in questa mappa, vedete le due stelline, mentre tutti gli altri sono le altre condizioni, le altre registrazioni della sequenza sismica. Questa sequenza è stata generata dalle faglie che ce ne sono due archi principali, anche questo tutto uno studio che la Regione ha messo in atto e ha pubblicato, quindi tutto quello che si vuole approfondire su questo argomento è facile trovare nel sito del Servizio Geologico e Sismico che ha messo a disposizione tutti questi dati e anche altri che vedremo tra un momento. Diciamo che la cosa importante, noi abbiamo avuto dei valori di PGA relativamente modesti, sempre confrontati a quelli di Christchurch, però stiamo parlando anche di valori in alcune zone che superano 0.3G. Questo è ciò che si poteva aspettare al bedrock, quindi la PGA, le accelerazioni che si possono aspettare al bedrock, ma è l'ultimo diagramma, questa indicazione, quella principale di questi terremoti, di questa sequenza, l'amplificazione che abbiamo avuto per i terreni, è un'amplificazione che va anche dell'ordine di 2,5 fino a 6 volte, l'amplificazione del bedrock. Certamente quest'area è quella che ha subito un'amplificazione maggiore di 2, dove chiaramente per amplificazione significa quella che io ottengo rispetto a quella del bedrock. Bene, allora, le cose importanti sono stati, durante i due eventi, si sono manifestati questo fenomeno della liquefazione che è stato un pochino una novità almeno per l'area, soprattutto perché si è manifestata in ambiente urbanizzato, contrariamente ad altre volte che invece non si vedeva. La cosa estremamente importante, e qui lo vedete indicato in questa carta, che è una carta geologica di superficie, noi abbiamo delle sabbie che sono depositi dei fiumi appenninici, delle sabbie che sono depositi del Po e poi abbiamo il terreno fine. Nella maggior parte dei casi, la sequenza stratigrafica, il terreno fine copre, per alcuni metri, due, tre, quattro metri, copre quella che è la sabbia dei terreni, delle sabbie appenniniche. Le sabbie appenniniche sono quelle che hanno manifestato il fenomeno, la liquefazione in particolare. La zona più colpita, quella che ha manifestato più evidenze, è quella di San Carlo e di Mirabello, quella che vedete qui indicata. Bene, questa è una zona, luogo di vecchi paleoalvi e paleoargini. Che cosa sono e perché soprattutto è stato costruito su questi paleoalvi e i paleoargini? Perché rispetto ad una pianura, ad un'area che è decisamente piatta, rappresentavano dei terreni un pochino più sollevati, i paleoargini, quindi qualche metro più in alto e poi comunque avevamo a che fare con della sabbia. Quindi terreno che dal punto di vista della capacità portante, cioè terreno da costruzione, è sicuramente più interessante. Ma certamente non si è pensato allora durante le fasi di questa espansione, quindi di costruzione degli edifici, non si è pensato minimamente al fenomeno della liquefazione, ma direi neanche al terremoto. Ora è fondamentale, e anche qui grazie sempre a questo servizio geologico e sismico della regione, che ha fatto davvero di tutte queste conoscenze, di tutti questi studi, le ha resi pubblici, quindi sono anche in questo momento, entrando nel sito si possono scaricare tutti questi dati, è fondamentale capire quella che è la geologia, cioè la deposizione di questi terreni alluvionali recenti. Perché noi abbiamo dei paleoalvei, perché ci sono i fiumi che sono stati in qualche modo deviati, poi abbiamo quelli che sono le zone dell'Appennino, dei fiumi dell'Appennino, scusate, fiumi dell'Appennino che nel letto hanno deposto quello che è in giallo, quello che vedete qui è il deposito più sabbioso. E poi c'è il Po, il Po con i suoi argini. Ecco, questo è un pochino un modello deposizionale di una pianura alluvionale molto larga, dove si può capire, si può notare, almeno lo schemino vorrebbe fare questo, il percorso di questo fiume, lì dove il letto deposita la parte più grossolana, quando ci sono le rotte oppure quando ci sono state rotte o superamenti delle barriere, ecco che allora la parte più fine si è deposta alla parte più fine. Quindi noi dobbiamo, per forza di cose, lo abbiamo sempre detto e lo ricordo ancora oggi, dobbiamo partire sempre dalla conoscenza e quindi i nostri colleghi geologi, che sono penso molti presenti anche in sala, dobbiamo chiedere a loro e studiare in ogni caso, in ogni intervento, in ogni progetto, quello che è l'ambiente deposizionale, quello che è l'ambiente geologico, perché altrimenti rischiamo di non capire determinati effetti fino in fondo. Che cos'è la liquefazione? Bene, la liquefazione è una repentina perdita di resistenza, cioè il terreno, che cosa fa? Il terreno viene sottoposto ad un scuotimento, scuotimento che noi trasformeremo in maniera molto pratica in una sequenza di cicli di carico-scarico. Questo scuotimento vorrebbe provocare una riduzione di volume del terreno, ma se questo terreno è saturo, quindi prima di tutto deve essere piuttosto sciolto, se questo terreno è saturo, ecco le due condizioni predisponenti, quindi la densità relativa è il fatto che sia saturo, vorrebbe addensarsi, cosa che non può fare perché se è saturo, l'acqua incomincia a aumentare la sua pressione, che è noto fluido e incomprimibile, aumenta la sua pressione riducendo le tensioni efficaci. Cosa succede? Che in pochissimi istanti c'è una perdita di resistenza e una perdita di rigidezza. Ora, qui l'assalto, ma insomma quali sono i terreni che sono suscettibili di liquefazione? Le ghiaie, le sabbie, i limi, soprattutto quelli non plastici, e poi vedete in maniera un po' provocatoria, qui ho messo dei puntini, perché chissà, magari scopriremo qualcos'altro. I terreni invece che sono plastici, come per esempio l'argilla e il limo plastico, non arrivano alla liquefazione perché hanno dei contatti che sono un po' diversi, ma perdono comunque resistenza e perdono rigidezza con conseguenti deformazioni plastiche molto importanti. Ora, quello che qui cerco di fare, veramente molto veloce perché l'abbiamo visto dalla presentazione di Misco Kubrinowski, molto bella, l'abbiamo visto in pratica, insomma questo che è uno schemino, e cioè che un terreno liquefacibile provoca per esempio cedimenti totali e differenziali delle strutture, con rotazione, provoca questi sandboils, cioè la fuoriuscita dell'acqua che si trasporta sabbia e si trasporta il fine, tutto quello che trova, e quello che sono i lateral spreading, cioè le fessure e le dislocazioni. Alcune foto, le abbiamo viste anche queste tante volte, qui siamo a San Carlo, qui si vede un po' una fessura, ecco giusto per un ingrandimento, questa è una foto di qualche mese dopo, quando incominciava a crescere il grano turco e questo è il tipo di fessura che ci siamo ritrovati qua. Qui siamo dietro la chiesa, ecco qui sono le zone che si vedono sempre a San Carlo, queste zone dove si è manifestata sia la liquefazione, quindi grande quantità, grandi volumi di sabbia che è arrivata in superficie e dislocazioni, quindi lateral spreading con fessure piuttosto grandi e continue che hanno portato, come vedete in questo caso, a rottura di impianti, di tutta una serie di cose. Qui vedete due strutture che sono crollate con una grande quantità di sabbia intorno che è arrivata, qui siamo ancora sempre a San Carlo in via Rossini, fessura con quantità di sabbia uscita, queste sono ancora foto, pure queste note, una casa che cosa ha subito? Ha subito rotazione, ha subito cedimento, tant'è che si vede qui la rottura rispetto al piano di campagna che prima ovviamente coincideva con questo piano. Qui siamo dentro la chiesa di San Carlo, di per sé grande struttura, iperstatica, molto forte, molto resistente che però ha avuto alla fin fine la fortuna di avere un pavimento flottante. Questo pavimento si è sollevato completamente portando alla superficie tutto quello che si poteva vedere e cioè sia la parte sabbiosa che ha liquefatto ma anche la parte del tappo, cioè il limo argilloso che lo copriva. Questa è ancora un'altra foto di una casa e quindi questa è la casa di persone che si sono trovate il letto e tutta la casa così riempita. Ecco, che cosa abbiamo imparato? La foto dei due garage, questo è uno dei due, due garage con le macchine che si sono sollevate di una certa quantità con la sabbia sotto, si sono svegliati in queste condizioni. Allora noi abbiamo osservato le seguenti cose, c'è un effetto benefico dei pozzi esistenti, dai pozzi esistenti è fuoriuscita l'acqua, effetto benefico perché pozzi esistenti hanno salvato moltissime abitazioni, moltissime strutture. Il pavimento che è saltato, quindi pavimenti flottanti, pavimenti non strutturali e soprattutto l'esistenza oppure la nuova creazione di fessure che hanno permesso all'acqua di fuoriuscire e quindi di dissipare. Di fatto quello che succede è una dissipazione delle sovrappressioni intestiziali con trasporto di questo fine. E anche qui la prima domanda era proprio questa, il terreno che ha liquefatto dopo si è riaddensato oppure può riliquefare e qui abbiamo un'evidenza, siamo a San Felice sul Panaro, il 29, quindi il secondo evento, ecco che la liquefazione è riapparsa ed è riapparsa proprio di nuovo con le stesse caratteristiche. Allora per farla breve, da subito abbiamo incominciato a fare una serie di indagini e quindi sondaggi, prove penetrometriche CPTU, quindi copiezzo cono, prove con il cono sismico, quelle che sono SCPTU, quindi downhole, sono state fatte prove di laboratorio da tutti i campioni prelevati. Questa è una pianta dell'area, di un'area, per esempio quella di San Carlo, dove si nota in questi colori il canale, questo era il paleocanale, questo invece più scuro è il paleoargine, sono argini molto morbidi, quindi li vedremo tra un attimo, ci sono state una serie di eventi e ci sono state subito dopo una serie di indagini che sono servite per caratterizzare il terreno. Adesso anche qui tutto questo è di dominio pubblico già da un po' di anni, quindi cerco di farla breve. Di fatto la sabbia che ha liquefatto si trova a questa profondità e questo è un pochino lo schema dei paleoargini, quindi molti edifici erano costruiti in sommità di questi paleoargini. E qui si vede anche, avendo fatto delle trincee, quelli che sono stati i culicoli che la sabbia ha percorso per arrivare fino alla superficie. Ecco, vediamo brevemente alcune prove, per esempio queste con il cono sismico fatte dalla sommità, cioè dal paleoargine. Vedete che qui ci sono sia la resistenza alla punta, sia la velocità di propagazione delle onde di taglio, velocità che vedete va dai 200-150 metri al secondo, soprattutto nel tratto giallo. Ci sono tre unità indicate, la U2 è quella del paleoargine, U1 è quello che io chiamo il coperchio, U3 è quello che è saltato, cioè la sabbia che ha liquefatto. Qui stiamo invece con una prova fuori dall'argine, cioè veramente nel paleocanale. E nel paleocanale, vedete, questo è lo spessore del terreno che ha liquefatto, ovviamente nel paleocanale lo spessore del terreno liquefacibile è maggiore rispetto al paleoargine. Qui ci sono tutta una serie di risultati delle prove fatte sui campioni indisturbati, quindi granulometria, limiti e quant'altro, per arrivare a definire una cosa ben precisa. Allora, vedete qui c'è una serie di granulometrie, quelle nere sono quelle dei U3, cioè la sabbia che ha liquefatto. Sono state definite, queste due linee rosse, sono state definite come San Carlo Sand, San Carlo Sand fatta e definita in questo modo, 12,5% di fine, un D50 di 0,21 e qui vedete gamma minimo e gamma massimo per vedere quali sono i suoi limiti. Allora, San Carlo Sand è una sabbia che abbiamo preso, l'abbiamo messa insieme e abbiamo cercato di fare uno studio che vi voglio far vedere nei prossimi minuti. Altre cose immediatamente dopo il sisma sono state quello del monitoraggio della falda, così come il monitoraggio topografico di moltissimi edifici per paura di, per verificare che dopo il sisma diciamo non ci fossero stati eventi, cedimenti successivi alla dissipazione delle sovrappressioni intestiziali. Una risposta al fatto che il terreno si è addensato oppure no. Allora, prova meccanica CPTU nera, questa è la prova meccanica, fatta prima evidentemente del sisma, quella rossa è una prova con il piezocono, quindi un'altra CPTU fa vedere che la densità di questo strato liquefacibile dopo il sisma non è tanto cambiata. Allora, è estremamente importante, lo diceva prima il Dottor Martelli, e ci teniamo a ribadirlo, spero tutte le volte che serve, ma per la prima volta il terreno di fondazione è diventata parte integrante dell'edificio, per cui i finanziamenti che sono stati stanziati per la ristrutturazione, parte di questi finanziamenti, 15% quello che era, una parte di questi finanziamenti è servita per migliorare quello che è il comportamento meccanico del terreno, quindi la sicurezza di entrambi, terreno di fondazione e edificio, sono un'unica cosa, sono una struttura. Ad oggi, 15 settembre, sono stati presentati 119 progetti, vedete nel 2013 5, 2014 37, 15 37, 16 45, sono i progetti per i quali è stato chiesto l'incremento del famoso 15%, cioè mitigazione e quindi consolidamento anche del terreno. E questo è uno stato di fatto, con quella che è la tabellina delle tipi di intervento, nella maggior parte dei casi dreni verticali, 55%, colonne di calcestruzio retroinfisse oppure fondazioni profonde. Tenete conto di questo fatto, che la scelta è fondamentalmente spesso governata dalle questioni economiche, quindi per il 15% quella più facile, più economica, era la difesa passiva, perché i dreni sono una difesa passiva, intervengono soltanto se dovesse arrivare. Ora brevemente, proprio 5 minuti e finisco, ma voglio farvi vedere questo. La verifica a liquefazione è la verifica di resistenza, quindi la definizione di un fattore di sicurezza, che cos'è? Il rapporto tra la resistenza e l'azione. Allora, la resistenza è la resistenza limite del terreno ed è una resistenza ciclica, perché? Perché la sollecitazione noi la trasformiamo in numero di cicli indotti a questo terreno. Allora, che cosa possiamo fare? Noi possiamo fare questo. Possiamo valutare quello che è la condizione del parametro di Stato da una prova di penetrometrica statica. Cioè, se io ho un terreno, per esempio, non cementato e di recente deposizione, posso pensare che la QC, la resistenza alla punta, è funzione delle proprietà del materiale, cioè della mineralogia, dei grani, eccetera. È funzione dello stato tensionale, cioè della profondità. Allora sai che faccio? Prendo la QC e la divido per una tensione, che è quella della profondità. Mi trovo questo QC asterisco. È funzione della densità. Questa densità la chiamo parametro di Stato. C'è una definizione ben precisa, ma che adesso sorvolo, perché di fatto quello che mi interessa è il parametro di Stato, mi indica densità e tensione. Quindi io posso prendere la QC asterisco, che è questa resistenza alla punta, e la trasformo come funzione del parametro di Stato. A questo punto che faccio? Prendo il terreno e da questo terreno misuro, di questo terreno, misuro la resistenza ciclica, cioè il CRR. Quindi che cosa faccio? Derivo una correlazione tra CRR e il parametro di Stato. Ecco che allora io posso valutare la resistenza ciclica direttamente dalla QC. Questo è l'obiettivo e questo è il nuovo metodo proposto che vado brevemente, in pochi secondi, ad illustrare. Qui ci sono una serie di prove che sono state eseguite, prove triassiali, per definire quella che è la linea dello Stato critico di questa sabbia. La sabbia è la San Carlo Sand, quella che ho definito prima come granulometria media rappresentativa. San Carlo Sand, questa è la linea di Stato critico. E la linea di Stato critico mi serve per capire una cosa fondamentale. Se il terreno si trova in uno stato tensionale e di indice dei vuoti che sta al di sotto della linea di Stato critico, ha un certo comportamento e cioè vuole aumentare di volume, se sta al di sopra vuole ridurre il volume. Quindi mi serve per capire e per definire quello che è il parametro di Stato. Qui vedete che ci sono tutte le prove meccaniche che sono state eseguite per definire questa linea di Stato critico. Queste sono le prove invece cicliche, prove cicliche che sono state fatte in diversi modi, con diverse caratteristiche, per definire quella che è la resistenza ciclica. Attenzione a questo grafico. Qui abbiamo una resistenza ciclica, questa è la resistenza ciclica, in funzione del numero di cicli. Noi dovremmo scegliere qual è il numero di cicli. Per esempio nel caso specifico del terremoto che abbiamo avuto, che è stato di piccola intensità, il numero di cicli equivalente è 4. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io qui devo prendere il valore 4 e devo andarmi a trovare quello che è la resistenza ciclica rispetto a questo grafico. Mi serve sapere a quale psi, cioè a quale parametro di Stato, corrisponde il mio terreno. Cosa abbiamo utilizzato? Abbiamo utilizzato la centrifuga sismica. Questa centrifuga verrà utilizzata molto per il progetto Liquifact, ma ne parleremo probabilmente oggi pomeriggio. Abbiamo preso e abbiamo fatto delle prove di calibrazione ricostruendo, usando il terreno di San Carlo, ricostruendo dei campioni di terreno omogenei dentro contenitori cilindrici e usando un mini cono, un mini piezo cono, abbiamo fatto delle prove che vedete qui in questo schema. Abbiamo fatto delle prove penetrometriche. Vedete, ognuna di questa prova penetrometrica appartiene ad un terreno che ha una densità costante con la profondità, questa 45, 64 e così via. Ma il parametro di stato dalla superficie alla profondità non è costante. Passa da un numero, via via cambia il numero che scendiamo con la profondità. Adesso ve la faccio breve, salto questo qui. Ecco che cosa siamo arrivati a definire. Abbiamo definito un valore che è questo QC star, quindi la QC misurata normalizzata rispetto alla pressione isotropa o alla profondità, quindi alla tensione verticale, in funzione del parametro di stato. E vedete, c'è un'unica linea che interpola, qui ci sono quattro prove penetrometriche fatte su questo contenitore, quindi quattro prove penetrometriche che rappresentano quattro profondità, perché in centrifuga il contenitore viene portato ad un'accelerazione centrifuga, tale per cui quello che sto attraversando è il terreno con tensioni che sono confrontabili con le tensioni in sito. Quindi abbiamo trovato un'unica correlazione. Allora che cosa facciamo? Valutiamo il parametro di stato da Qc e quindi io faccio in questo caso, scusate questa freccia è andata troppo in là, ho trovato l'equazione Qc funzione K per E elevato a meno M per Psi, cioè io devo definire per quel tipo di sabbia il parametro K e il parametro M, derivo dalle prove fatte, dalle prove cicliche, quello che è il valore della resistenza ciclica e questo è un esempio, e quindi valto CRR da Qc. Questo è il calcolo, questo è l'N4 che mi porta a dare un CRR4 con questa espressione. Facciamola breve e arriviamo alla conclusione. Vedete qui rappresentato quello che è la profondità soltanto del terreno liquefacibile, quindi sto pigliando da 12 metri sul livello medio mare fino a 7 metri, soltanto quello strato che ha liquefatto. Quella rossa è la valutazione della sollecitazione ciclica, quindi prendi il terremoto, lo trasformi in un numero di cicli tale per cui con una formulazione che permette di dire il valore di CSR con la profondità ed ecco che ho una curva questa rossa che significa la domanda, cioè il sisma ha provocato quella linea rossa. Che cosa sono le altre due linee? La linea verde è la valutazione della resistenza del terreno secondo i metodi conosciuti in letteratura, per esempio qui c'è l'ultimo, quello di Idris, non è proprio l'ultimo, Idris e Bullanger del 2008. Vedete che cosa significa questo? Significa che il terreno che liquefa secondo questa valutazione è quello che va tra i 10 metri e gli 8 metri, quindi soltanto quello che sta sotto la linea rossa. La linea blu invece rappresenta la formazione, il profilo della resistenza calibrata secondo la metodologia che vi ho fatto vedere e che vi ho descritto in maniera veloce ma insomma ci sono poi gli articoli da leggere. Questa linea fa vedere che la zona che sta sotto e che quindi liquefa è decisamente più estesa e quindi un po' più giustificherebbe un po' meglio quelle che sono state le evidenze sperimentali cioè il disastro che abbiamo osservato. L'ultima è questa. Il metodo e questa l'abbiamo vista anche ce l'ha fatta vedere il professor Kubinowski poco fa questa è la linea verde la resistenza la richiesta del sisma è rappresentato da questi pallini da questi quadratini rossi e questa è la resistenza del terreno secondo questa formulazione noi siamo a cavallo tra la zona superiore che vuol dire ho una resistenza in questo caso la zona superiore vuol dire che ho una resistenza maggiore e la zona inferiore ecco questa è l'indicazione cioè come dire c'è una una tendenza la cosa che sorprende almeno che ha sorpreso me ma è oggetto veramente di profonda riflessione è che raggiunto un certo valore di QC cioè di resistenza alla punta normalizzata per quanto volete raggiunto un certo valore che generalmente può essere 125 250 non mi importa la resistenza cresce esponenzialmente cresce all'infinito la curva invece che vedete alla destra è quella che è venuta fuori da questa correlazione da questa taratura che fa vedere che all'aumentare della QC è vero che cresce la resistenza ma non il che significa che non esistono terreni non liquefacibili ma non vuol dire neanche che lo sono tutti dipende dalla domanda cioè dipende dalla sollecitazione ora noi parleremo di alcune cose alcuni trattamenti ne abbiamo parlato proprio in questa sede più volte una che sarà oggetto del progetto liquefazione è proprio quella di indurre all'interno del terreno una parziale saturazione e lo studieremo questo proprio grazie al progetto liquefacibili quindi tutti coloro insomma che sono un po' interessati e partecipare oggi pomeriggio sentirete qualcosa proprio per quanto riguarda le tecniche di mitigazione e questa di insufflare dell'aria nel terreno e quindi provocare una parziale saturazione è quella decisamente più economica ma bisogna vedere poi se funziona oppure no grazie per l'attenzione grazie grazie vincenzo vincenzo